«E quando? La mia vita scorreva sul marmo, superficiale e superba, fino a quando la mia compagna mi ha lasciato e il dolore ha cominciato a schiaffeggiarmi. Perché?» Commento. «Perché la tua vita scorreva superficiale e superba e la tua compagna ti ha lasciato quando eri in grado di comprendere?» «E quando?»